Se anche voi vi siete trovati nella situazione di voler fare uno screenshot magari a un sito o una zona dedicata all'interno del sito stesso che state navigando e non sapete come fare, tranquilli abbiamo la soluzione perfetta per voi. E si utilizzerà sempre il tasto print della vostra tastiera che però di base vi fa lo screenshot di tutta la schermata e se avete più monitor anche di più monitor, il che non è mai il massimo. Quindi vi diamo la soluzione molto molto semplice. Andate nelle impostazioni di Windows, successivamente in accessibilità e poi selezionate il menu della tastiera. Strollando un po' dalle impostazioni potrete attivare la funzionalità di cui vi stiamo parlando, ovvero associando al tasto print un tool dedicato proprio allo screenshot. Il quale vi permetterà di fare o un ritaglio personalizzato di quello che voi appunto volete andare a screenshotare, oppure lo screenshot di una finestra, oppure ovviamente di un singolo monitor. Una funzionalità nascostissima di Windows ma veramente molto utile.